Hanno deciso di farsi avanti, rompere il silenzio e denunciare quanto subito. Sono infatti almeno 14 casi di rapina nell'arco di appena due settimane ai danni di altrettanti studenti delle scuole medie superiori e aretine, riconducibili alla stessa mano criminale, ma adesso altri ragazzini hanno deciso di farsi avanti e presentarsi in questura e denunciare le aggressioni subite e taciute sin ad ora per paura. Un vero e proprio incubo per alcuni giovani aretini che era iniziato alcune settimane fa ma che fortunatamente si è concluso con un arresto. In manette è finito un ventenne cossovaro, regolare sul territorio ma pluripregiudicato. Il rapinatore utilizzava una strategia ben studiata, aspettava le giovani vittime all'uscita della scuola, attendeva a rimanessero da sole, le adescava per poi minacciarle, sottraendogli il cellulare, a volte li ricattava pure chiedendogli del denaro per riavere indietro il proprio telefono. Il ventenne non aveva però scrupoli nemmeno ad agire quando le vittime si trovavano in gruppo. Ma non solo minacce verbali, dammi soldi o ti spacco la faccia, chi faceva resistenza veniva infatti picchiato in alcuni casi anche in maniera piuttosto violenta ad un ragazzino. Il ventenne avrebbe spaccato il setto nasale con un pugno. L'obiettivo era quello di racimolare qualche spicciolo per potersi comprare una dose di droga. Gli episodi si sono tutti consumati in prossimità di alcune scuole aretine, da via 25 Aprile alla zona Parco Pertini per finire al sottopasso di via Trasimeno. A fermarlo sono stati gli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo, guidata da Francesco Morselli, che lo hanno arrestato in stazione ad Arezzo, mentre il ventenne stava salendo in treno per tornare a Subbiano, il paese in cui abita.